Una manifestazione che mi sta proprio nel cuore, a parte Diego che ho visto crescere perché comunque era giovanissima alle prime... Sto emicchiando! No, ma non è vero, perché sono venuto giù con mia figlia e quando abbiamo iniziato era piccola piccola, aveva 5 anni, adesso ne ha 15 ed è meraviglioso. È meraviglioso poter condividere questa generosità ogni anno e soprattutto sapere che grazie a loro riusciamo ad aiutare tanti bambini e a rendere la loro sofferenza meno sofferente. Io qui sono a casa, poi adesso ho letto sui giornali e ho visto che Diego mi ha mandato le foto di questo murales bellissimo che hanno dedicato a Troisi e per me è un onore essere parte di questa città e far parte di questa città. Grazie a tutti!